ciao questo nuovo video che solito che faccio sui film che riescono da mia recuperare visto che anche come film questo qua è nuovo che è nuovo come film che che come film non è quello che ho capito io non è nemmeno passato non l'hanno nemmeno messo fatto passare al cinema che l'hanno messo direttamente sulle solite piattaforme che che la sua data marea d'uscita è stata il 5 aprile proprio di quest'anno come i film che con i paesi di produzione del regno unito come film che è stato dietro da filippo martino con la sceneggiatura di pietro moffat che volevo magari parlare di questo film che si chiama scoop che è un film biografico che come film come genere biografico che come si dice che più che altro magari come ho detto prima che come film è stato diretto da questo philip martin che racconta il dietro le quinte ma è di una intervista esclusiva passata marea alla storia che quella fatta magari dalla produzione televisiva di new news night emily mighty 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 l'is nel che quella nel 2019 al principe andrea sul suo marco nel suo marco coinvolgimento mare nel caso epstein che questo questo va bachigan palace apre mai le porte marella alla bbc e seduti e mare a un tavolino il principe risponde mare alla domanda di questa emily mighty lisse a proposito mare dei suoi mare legami con l'imprenditore statunitense accusato di traffico sessuale di minorenni e mare nella lista compaiono mare noti ma riconosciuti che tra cui quello di andrea che si dicava pubblicamente marino se innocente e mare assistiamo a mare la tenacia e al coraggio della di questa giornalista che è riuscita a varcare mare la soglia di un di una fortezza mai in apparenza mare in accessi inaccessibile che più che altro morai questa biografia parla più che altro mai di questo che sicuramente morai a molte persone ma magari sicuramente morai se lo morai andrà sicuramente morai a guardare dopo essendo film nuovo di quest'anno che l'hanno messo direttamente sulle solite piattaforme senza farlo passare magari al cinema magari qualcuno come stavo dicendo prima magari sicuramente magari qualcuno a questa storia come film e magari se lo andrà sicuramente magari a recuperarselo che gli volevo dedicare questo video e portarlo magari sul sul mio canale che magari come come al solito magari vi lascio magari il cast degli attori che hanno partecipato magari a questo film assieme a magari se riesco a trovare qualche informazione in più la trovate magari sotto in descrizione e magari assieme a magari anche al videotrailer che magari essendo mare della Gran Bretagna e magari come paese di produzione sicuramente a molta gente come come film biografico magari gli può magari interessare che magari questi tipo di film ho visto che magari a molta gente magari come si dice magari questi tipo di film sono sempre magari guardati che magari riesci a scoprire qualche informazione in più qualche dettaglio che magari ti potevi magari avere perso o magari conoscere meglio magari la storia di qualcuno e niente quello che più che altro questo film biografico parlava magari di questo e niente quello che potevo magari dire su questo film magari l'ho già detto al massimo ci vediamo sicuramente magari più avanti con i miei soliti magari video che porto magari sul mio canale e niente per adesso magari vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao